Buonasera Stefano e Francis, grazie mille che siete qui con noi, è una serata speciale per noi, spero anche per voi, e vogliamo chiedere due o tre domande. Come le vostre impressioni di queste sere, di tutto questo evento che abbiamo del secondo al 6 maggio? È sicuramente un momento di aggregazione di danza bellissimo, dove si sposano tanti stili diversi, tante nozioni, tanto ballo, è un appuntamento che noi ogni anno facciamo con vero piacere. Ischia secondo me è uno degli eventi di danza in assoluto più belli, un po' per l'ereganza che ruota intorno a questo evento e un po' proprio per il piacere e la passione che si sente quando si arriva in questo evento. Grazie, quindi voi venite qui già per tanti anni? Sì, questo è il terzo anno che veniamo qua, il terzo anno che io ballo e il terzo di tanti altri. Che bello, quindi c'è qualche differenza da primo anno che siete qui, questo anno se qualcosa è cambiato? Forse maestri o...? Sicuramente ogni anno l'atmosfera è la stessa, ma si ha sempre la scoperta di sensazioni nuove, di emozioni nuove, sicuramente gli insegnanti che cambiano, nuove sorprese che l'organizzatore ci riserva sempre con piacere, quindi è in assoluta crescita, assolutamente. Grazie. C'è qualcosa che volete dire a Geri e a tutta la team che lavora con lui per organizzare queste cose qui? Ovviamente un grazie di tutto cuore, per noi è un privilegio ed un onore essere qui con voi, con lui e ovviamente è un grande piacere. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie, buona serata. Grazie.